V. Maurizio Poli.it, poi vi riporto l'articolo di Italia Oggi, riforma fiscale sulle successioni tassazione snellita. Il viceministro Leo dice in questa conferenza ha fatto accenno per quanto riguarda le successioni e donazioni tassazioni più semplice ed è in arrivo una norma che fissa le imposte sui trust. Quindi i prossimi decreti chiariranno questi aspetti, dice che un altro capitolo interesserà l'imposta di successione e quella sulle donazioni. L'ipotesi di quel lavoro è di eliminare l'imposta supplementare lasciando la principale e complementare, includendo l'autoliquidazione dell'imposta. L'altro intervento di rilievo è sulla tassazione dei trust. Si sta lavorando di viceministro a traire il proposito a fine di includere organicamente nei testi unici la disciplina dei trust. Quindi novità in arrivo quei prossimi decreti. Leggeremo e poi divulgheremo. Alla prossima!